Si parla di Eremi, si parla di questa iniziativa dell'Accademia Belle Arti dell'Aquila. Direttore, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa? Il senso di questa iniziativa è collegare la spiritualità dei luoghi come gli Eremi alla spiritualità dell'arte. Che cosa significa far dialogare questi due aspetti che possono apparire diversi ma che sono in realtà congiunti. I nostri studenti in questo modo possono anche verificare che cosa significa realizzare una mostra in luoghi così particolari. Quindi cosa vedremo in questa manifestazione? Vedrete delle opere realizzate dagli artisti specificatamente per questi luoghi qui. L'esposizione non è solo riferita all'opera ma è riferita anche al percorso per arrivare in questi luoghi. Il luogo stesso parte dell'opera. Ci sono anche delle novità rispetto alla passata edizione? Diciamo che in questo caso ci saranno meno Eremi però la realizzazione di questa iniziativa sarà più scientifica. Quali sono gli Eremi che ovviamente faranno parte di questo progetto? Poi i docenti che si sono interessati ovviamente dell'iniziativa spiegheranno, diranno quali sono gli Eremi. Noi cercheremo a turno di coinvolgere tutti gli Eremi che sono presenti in Abruzzo. Teniamo presente che questa è una caratteristica particolare di questo territorio e va assolutamente rivalutata.